Wilson sbaglio o questa mappa inizia a essere particolarmente interessante L'ultimo episodio è stato davvero incredibile Siamo infilati nella torre del male, ci siamo cacciati nei guai Ma ne siamo usciti egregiamente Ragazzi continuate a sostenere la serie Mi raccomando spolliciate a più non posso Commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Ma dove diavolo stanno le uova? Buona visione Bene ragazzi, qua i Steppi e bentornati nel quinto appuntamento della serie CTM di Sky Rogue Come vedete non ho mosso un singolo muscolo Siamo ancora alla torre del male e siamo con un bottino bello interessante Il piano in questo momento è il seguente Dobbiamo scendere dalla torre e tornare a casa e non dovrebbe essere un problema Anche se vi dico, ho un po' di perplessità Praticamente noi finora che cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo esplorato un po' a destra e a sinistra Senza però andare a fondo nelle questioni importanti Io ho un unico obiettivo all'interno di questa mappa Ovvero quello di trovare le uova tanto desiderate dal sottoscritto Che però non ho la minima idea di dove si trovino Questo significa che per ora abbiamo un problema Cinque episodi, zero uova Ne servono quattro, otto roppo Pompompero, che caspita stai a dire Io non ho parole C'è sempre qualcuno che cerca di sabotarmi Come potete vedere Ok, battene di sotto e io salgo Ciao bello Ad ogni modo la missione di tornare a casa è compiuta È giunta l'ora di svuotare tutto l'inventario Il nostro bottino non è affatto male Abbiamo 22 mele dorate Quindi ne porteremo con noi solamente 3 ogni viaggio che faremo E in realtà quasi quasi porterei con me anche una pozione che mi può dare extra damage Nel caso in cui dovessimo combattere con tanti mob Prima di partire per la missione di oggi Direi di raccogliere il cibo Tutto il grano Le carote che sono cresciute Potrei fare anche un salto nell'isola dei villageri Quella che abbiamo trovato l'altra volta C'era veramente un botto di roba da mangiare Però siamo messi abbastanza bene Da quel lato siamo già andati Avevamo visto delle isole interessanti Ma forse non voglio tornarci subito Quell'isola del male lassù in cima Mi ispira particolarmente Ma non oggi Proviamo ad esplorare anche questa parte di qua Guardate un po' che cosa c'è laggiù in fondo A parte un sacco di isolette interessanti C'è tipo una di quelle ship che ho visto anche dall'altro lato Che sembrerebbe essere molto buona in caso nostro Non c'è nessun punto che non possiamo raggiungere Siamo carichi e determinati Dobbiamo assolutamente aumentare il ritmo di esplorazione Almeno un paio di isolette episodio Se no dove caspita arriviamo qua da nessuna parte Eccoci giunti a destinazione Abbiamo altre di queste barchette del cavolo Dove dentro c'è solamente lo ship fuel Va bene Pentain motor Questo cosa diavolo è Ogni oggetto che hanno creato Probabilmente ha una funzione Di scambio presumo con dei villageri Quindi in un modo o nell'altro Ci serviranno Non possiamo andare nell'isoletta e esterminarli Mannaggia Era uno dei miei piani iniziali Voglio giusto capire Cosa potrebbe essere contenuto all'interno di quest'isola innevata Sento un botto di mob Quindi presumo che siano napi Grazie a degli spawner Quella là Ma buongiorno amici Vedo delle cose non molto rassicuranti Ci sono dei personaggi con spade potenziate È permesso? No No mi sembra proprio di no Punto numero uno Distruggere il mob spawner Volta distrutto il mob spawner Sarà tutto in discesa Ovviamente Ciao piccolo scheletrino Madonna quanti siete Siete veramente una marea Po' per volta V'ammazzo tutti Tranchigi Eeeh Guarda questi mi fanno paura Oh porca trottola che male Mi sono buttato di sotto raga eh Aiuto 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 Orca trottola che male Aia 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 Torna su Torna su Aia Oddio Anche da questo lato in teoria si può scendere Ma perché mi sembra sempre meno affidabile tutto ciò? Una cosa per volta Mangiamo Recuperiamo la vita Dopodiché No col cavolo che scendiamo raga Col cavolo che scendiamo raga è follia Io ve lo dico Stepni qua sotto ci crepa in un minuto Neanche mi è venuta un'idea Se avessi della lava potrei tirargliela in testa e dar fuoco a tutti quanti Dove caspita la prendo però la lava Non c'era qualche isola che era stracolma Voglio prima vedere cosa Eccoci Cosa succede buttandosi di sotto perché sei un pirno Mio dio ma sono serio Ci sarà qualcosa di utile qua dentro Per forza Ola È permesso entrare Scusate Uuu Come prego Ragazzi c'è un portale dell'end Ma che caspita stai dicendo? Ma col cavolo che mi butto qua dentro Buttarsi qua dentro in questo momento significa proprio dire ai mob Uccidetemi pure Drago vuoi massacrarmi? Per ora questo lo ignorerei Piuttosto andiamo qua sotto Però senza lava è impossibile Ma siete scemi Un infarto mi avete fatto prendere L'immortacci vostra Vattene di sotto Va che ti chiudo di dentro Bye bye Senti ster recupera questi diamanti Per iniziare Ma chi è che guardano? C'è un villaggiero Adesso mi torna tutto ragazzi C'è un villaggiero che attrae tutti quanti mob E di conseguenza potrebbe essere un villaggiero importante per noi Villaggiero sto arrivando Tieni duro non aver paura Mi dispiace che tu sia finito in questa situazione Non è una mia scelta Sono il salvatore che stavi aspettando da anni Oh porca miseria Cosa ho trovato qua? C'è della TNT TNT collegata con redstone A che cosa di preciso? Scusate Oh 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 No 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 Guarda 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 Amico Ah! Tu sei scemo Non mi puoi prendere sti infarti Un creeper qua fa saltare in aria tutta l'isola Villager Possiamo parlare se vuoi Ciao Hudson Otto oro in cambio del fuel Subito Cos'altro scambi? Pentain motor Vai vai dammi tutto Cioè raga guardate che maledetti Mi hanno fatto una trappola Grazie per essermi venuto in soccorso Questi pirati mi hanno tenuto prigioniero per anni Ve l'avevo detto ragazzi che sto tipo era qua da un millennio Dando a lui il pentain motor Può farsi la barca e scappare da questi soprusi Perfetto Giuro che vorrei tanto far saltare in aria ogni cosa Secondo voi Stepney può andarsene via senza aver combinato un danno? Eh no Io ve lo dico potrebbe essere una pessima idea Una pessima scelta Ho attivato la TNT Vola Vola su Velocemente Oh 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 mio dio Sono un pazzo malato Però li ho uccisi tutti Il villaggiare è salvo No Lascialo stare Lascialo stare Ti ammazzo Ti faccio fuori No Skeletri Salvo io amico mio Vieni di qua Vieni di qua Vieni 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 Sei salvo Grazie Ti ho salvato Dove sono i miei saldi? Non sembrerebbe molto riconoscente il tipo Raga ho fatto il panico Hudson Ti ho salvato la vita Dovresti essermi riconosce Oh porca miseria Oddio 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 Stavo per farlo crepare No 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 Andiamocene Via via Scappa ste Voglio tornare in cima Così possiamo un attimo tornare indietro a casa Svuotare l'inventario Fare ufficialmente un piccone di diamante Perché si è praticamente distrutto Certo che qua dentro potrei anche controllare però cosa c'è Ah ok sono semplici isolette inutili C'è un blocco di smeraldo invece Tanto inutile non è Eh non ci serve a niente il blocco di smeraldo Ma prendiamo gli smeraldi Perché lasciarli qua Hola Hola ci No 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 Non ci pensare neanche per sbaglio What the fuck Via Accidenti a me Ve l'avevo detto che avrei trovato i mob sul ponte Col cavolo che me la rischio per voi Beccatista freccia into the face E muori Salvataggio egregio signor Stepney Complimenti Bottino davvero molto interessante Diamante stavolta Prendiamo tre diamanti Ci facciamo immediatamente il piccone nuovo Così sto molto più tranquillo Lo skyship fuel lo posso anche mettere da parte Però Zitti zitti Noi adesso abbiamo quasi Quasi due stack d'oro Uno e mezzo Vabbè Guardiamo il lato positivo di quell'esplosione Guardate quanti materiali ci ha fornito Abbiamo anche un qualcosa che ci fa resistere per otto minuti All'interno della lava Probabilmente Fire resistance Però abbiamo preso di mira quella direzione Voglio assolutamente arrivare a quella chiesa abbandonata Ho dei brutti ricordi con le chiese in minecraft Più che altro all'interno delle ctm con mappe con isole volanti Ecco La super cosa c'è? Passeremo direttamente da questo ponte Per quanto sia buio tetro E oh che cavolo Come ho fatto a non vederlo raga? C'era uno zombie a due passi da me Io ho rischiato di farmi ammazzare Vai di sotto grazie Anzi è morto Secondo me questa isoletta potrebbe essere interessante Non sembrerebbe essere un'isola malvagia Quindi probabilmente al suo interno ci sarà un villaggero Ma la domanda è sempre la stessa Dove diavolo sono le uova di cui parla il gioco? No uova No party No party No fine serie No fine serie No bello Prima o poi uno dovranno darcelo eh Non è che posso girare qua in eterno Comunque ho appena visto Grazie al mio sguardo da ilfo Qua sotto che c'è una cesta in mezzo all'acqua Vorrei recuperarla grazie Oh yes Chunk of ice Knock back sharpness Oh 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 No What? What? Fammi uscire Fammi uscire la ghiaccia Oh santa mis... No vabbè Ragazzi Mi si... Sono più pericoloso io per me stesso che i mob Incredibile E permesso Dlingdlong Salve C'è nessuno in casa Amici Cari Sono tornato Wuh Un botto di blocchi inutili Però c'è un po' di cibo Il cibo fa sempre comodo lo sapete Mamma sono tornato a casa Ah Aiuto Quei cosi hanno una spada di diamante Mamma perché sei diventata uno scheletro Questo scheletro se mi dà un colpo Mi one shotta Ok L'ho ucciso Aia Oh no No Io non scherzavo quando ho detto che quello scheletro mi avrebbe one shottato Ma non pensavo così Un cuore Ok Valutiamo tutte le opzioni Non posso lanciare la ender pearl nell'angolino Perché purtroppo abbiamo solo un cuore per giunta E prenderemo danno L'unica cosa che posso fare in questo momento Dopo aver imparato da fortnite È prendere in mano i blocchi da costruzione E cercare di isolarmi dagli scheletri Se riesco a chiudermi Non dovrebbero prendermi Perché non hanno l'arco Ma hanno Hanno la spada Quindi 2 4 6 Devo premere il tasto Entrare Premere il tasto 7 E chiudermi intorno Eccolo Maledizione No L'ho pure detto No ma in questa casa Non succederà niente di male Sembra tutto bello Tutto interessante Rimortacci loro Dobbiamo sbrigarci Non voglio assolutamente che disponino i miei oggetti Quindi Ti è così Dobbiamo fare una palla Una zappa Qualcosa Del cibo Del cibo Del cibo Ok questi E una mela d'oro Una sola basta e avanza via La prossima volta Quando decidi di combattere gli scheletri Ti sei portato 3 mela d'oro apposta Proprio per questo motivo Ecco non fare all'eroe della situazione Io ci riesco anche a mani nude Ho ucciso un drago dell'enda a mani nude Stupido Stepney Stupido Ve l'ho detto Nelle mappe con le isole sospese Le chiese Non sono mai una cosa certa e tranquilla Anche se in realtà questa secondo me Non è una chiese in realtà Eh no per niente Salve buongiorno Sono tornato Vorrei il mio inventario Vorrei il mio inventario Eccolo qua Creeper no Creeper no Creeper no Creeper no Lascialo stare Lascialo stare Lontano 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 Dannazione Disastro di dimensioni nucleari Non avete capito Gli oggetti stanno per sparire Se non mi muovo Ho perso tutto Mali estremi Estremi Rimedi Si prendo tutto in diamante Non me ne frega niente Tiè dammi questo Mi dai anche una spada per piacere Senza spada non si fa nulla E ancora una volta Non ho mangiato la mela d'oro Ma cosa c'ho in testa Le scimmie urlatrici Muoviti Devi essere un fulmine Non hai più tempo a disposizione Giuro che se riesco a recuperare tutto Faccio il bravo Mangia la mela d'oro Istantaneamente Sali su piano piano Ok Non c'è niente di male Non c'è niente di male Recupera tutto Si è rotto Spaccalo No 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 Scendi giù Scendi giù Scendi giù Scendi giù Ok stai a mezz'aria Così è perfetto Così non ti può prendere Spacca lo spawn Spacca 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 Let's go baby Il mio inventario È praticamente svanito Totalmente È rimasto poco e nulla Tutto questo però Con una spada Molto interessante La spada valanga Abbiamo un incantesimo Con efficienza 5 Anzi in realtà Ne abbiamo due Non è andata malissimo Per come era partita Con quella stupidissima morte Pensavo di aver perso tutto E guardate un po' Il piccone È desponato veramente Adesso dobbiamo semplicemente Tornare a casa What? Raga c'è qualcuno Che bussa alla porta È impellentemente Lo faccio entrare? Lo faccio entrare? Amico Ehi là Sono qui Svegliati Dormi Dormi sugli allori Eliminato Non ci sei più Io direi che possiamo Anche tornarcene a casa Se siete tutti quanti d'accordo Siamo d'accordo? Siamo d'accordo Direi che per oggi Ne abbiamo avuti in abbondanza Torniamo a letto A casa Hai sicuro? E anche questo oggi Steppi ha completato La sua missione Dormiamo va? Il problema è che quando dormi Ripensi a tutto E ti torna in mente Che in realtà Non hai trovato Neanche un uovo Ragazzi vi pego Se sapete che sono ste uova Scrivetemelo nei commenti Questo quinto episodio Termina qua Spero che vi sia piaciuto Se così è stato lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Noi ci vediamo nei prossimi giorni Con un prossimo video Guarda Steppi è tutto Da me sono le uova